Scriviti al nostro canale Come finirà la serata? Immagino che mi riaccompagnerai a casa e te ne andrai Tu pensavi che avremmo fatto sesso? No, voglio dire no Non ha messo la freccia prima di svoltare Mi dispiace Scenda dalla macchina Posso chiederle perché? No, non può Mani dietro la testa in ginocchio Fa sul serio? In ginocchio! Perché hai un arresto? Non mi macchina! Sono un avvocato! Rientra, tranquilla! Sto prendendo il cellulare! E se Dio voleva la mia morte e gli ho rovinato i piani? Non credo volesse questo Ehi! Siete voi! Dobbiamo andarcene, adesso Siamo su tutti i giornali Approvo quello che hai fatto È stata legittima difesa Potere al popolo 1-8-7 Due sospettati Oh, ecco i buoni e Clyde neri Come eviterete la polizia? Ci nasconderemo alla luce del sole Ti piace? Ancora non lo so Polizia! Qui siete al sicuro È un onore incontrarvi Ci avete dato un motivo per sperare Sono stanco di nascondermi Combattere o morire Se la mia donna mi ricorda con affetto Non voglio altro Grazie per questo viaggio Comunque finisca